il mio consueto ben trovato al pubblico di blog sicilia per questo nuovo appuntamento con il nostro talk sicilia in versione elettorale come tutti quanti voi sapete perché ci avete seguito in questo mese e mezzo circa di campagna elettorale per le politiche per le regionali dopo aver seguito recentemente ormai le amministrative questi talk sono dedicati proprio alla presentazione della visione del futuro della sicilia e dell'italia dei nostri candidati e oggi è il nostro credito ospite giorgio mulè forse grazie candidato qui in sicilia già sottosegretario ma insomma non dobbiamo presentarvelo sicuramente innanzitutto candidato in sicilia qui è stata una scelta precisa è stata una scelta che mi ha fatto grande grande enorme piacere perché essendo nato a caltanissetta essendomi formato in provincia di trapene avendo cominciato a lavorare qui a palermo beh per me si è trattato di un grande orgoglio il fatto che il presidente berlusconi avesse indicato me come bandiera come capolista di forza italia a palermo nel collegio prurinominale per cui per me è un grande onore e nello stesso tempo ovviamente un grande onore avendo coscienza di tutte le cose che vanno fatte in sicilia e quindi entriamo subito in quel pizzico di polemica se è possibile farla un candidato che ha origini siciliane che si candida in sicilia pur avendo avuto esperienza in tutto il paese e in mezzo anche a qualche candidato che viene accusato di essere un po paracadutato ma guarda io ho vissuto lo stesso problema nelle scorse elezioni fui candidato in liguria e non sono stato né di origine di formazione ligure e quindi anche lì quando arrivai ci fu la sindrome del paracadutato le posso dire che adesso che non sono stato ricandidato in in liguria la gente non dico che piange ma insomma quasi perché poi l'impegno e l'esperienza di un candidato si dimostrano sul campo si dimostrano quando ti metti a disposizione del territorio il territorio per quello che fa in sicilia succede la stessa cosa a parte che si tratta di elezioni nazionali nuove avremo 200 deputati in meno avremo 100 senatori in meno per cui si è candidati essere rappresentanti non tanto di piccoli centri ma di grandi fette della regione anche qui a palermo in sicilia io sono certo che i nostri candidati rappresenteranno al meglio la sicilia da dove dovessero essere eletti elezioni anticipate da una parte la prima volta che si vota con il taglio dei parlamentari dall'altra una legge elettorale che non è sempre chiarissima sono tutti elementi da mettere insieme sono da mettere insieme rispetto a una riforma che è stata fatta sull'onda del populismo si è tagliati parlamentari ma poi ci si è scordati di rifare i regolamenti ad esempio alla camera per cui nell'orda populista si è cercato si è venduto il concetto che si risparmierà chissà quantità in realtà si risparmierà lo 0,0007 del bilancio dello stato quindi una neanche una briciola meno di una briciola non si è pensato a come far funzionare questo parlamento noi ci troveremo il 13 di ottobre la prima seduta della camera senza la possibilità di cominciare a lavorare perché manca quel regolamento dopodiché la legge elettorale figlia di una legge imposta a colpi di fiducia dal partito democratico che porta il nome di un ex componente del partito democratico siamo stati costretti a doverla accettare è l'ultima volta che lo faremo perché tra le altre cose che faremo quando saremo al governo la prima cosa sarà il regolamento della camera la seconda ci occuperemo anche della legge elettorale nei tempi nei modi previsti questa legge elettorale oltretutto mette a rischio passatemi il termine il principio di rappresentanza territoriale guardi è un'assurdità di questa legge elettorale perché vi siano territori immensi vasti collegio plurinominiale di palermo insomma un milione e duecentomila elettori e a un certo punto ci sarà anche un conflitto di interessi nella rappresentanza del candidato si dovrà ad esempio e dover difendere gli interessi di un porto rispetto a un altro che sono confliggenti in province diverse ci sono regioni in cui non sono rappresentati neanche come dire totalmente gli abitanti della regione ma debordano in altre regioni sono i frutti avvenuti una legge fatta da chi ripeto ha serfato ha cavalcato quest'onda populista e adesso noi purtroppo ne piangeremo quest'onda populista che è comunque stata impersonata per questo in questa registratura certamente da un'ampia fetta dei cinque stelle che poi un po sono cambiati e che poi si sono anche avvicinati al pd c'è stato un avvicinamento poi un allontanamento insomma tutto questo ha creato le basi per un avanzamento invece di un rinnovato avanzamento del cento destra oggi si parla addirittura della possibilità di un 18 a 0 sulla scia di quello che fu il 61 a 0 famoso mi consente di fare dovuti dovuti scongiuri ma insomma ovviamente noi speriamo di fare il pieno il cosiddetto cappotto però ci affidiamo per questo non a un'onda che emotiva ma sulla incapacità che hanno dimostrato gli altri che non sono i tuttologi le 5 stelle sono molto volte dei nientologi al pari anche di altri come dire rappresentanti che a me sono stati al governo noi abbiamo il grande vantaggio di avere competenze da una parte capacità di governare insieme in 16 regioni di avere una federazione un centrodestra che si fonda da oltre 27 anni sulla capacità di una comunità di valore e di idee portiamo questo anche in sicilia lo portiamo rappresentando un ponte ideale al di là di quello dello stretto che vogliamo fare tra la sicilia e il governo nazionale di roma i siciliani devono aver chiaro che questo collante questo link che si creerà tra la sicilia il governo della regione e di roma sarà decisivo per far arrivare in sicilia tutte le risorse necessarie per andare avanti e voltare pagina bene abbiamo dunque dato il via a quello che è l'argomento che volevo affrontare che è la Sicilia la Sicilia abbiamo in buona sostanza una coincidenza di elezioni quest'anno fra le politiche e le regionali ma è un vantaggio o uno svantaggio? Saranno le politiche a traenare le regionali o viceversa? sarà la buona politica a traenare il voto dei siciliani attraverso una scelta condivisa che riguarderà Renato Schifani alla presidenza della regione siciliana e centrodestra Forza Italia a livello nazionale è una scelta di campo in questo caso mai slogan più azzeccato perché dalla scelta di Forza Italia si metteranno assieme il buon governo di Renato Schifani e quello nazionale sta avvenendo ripeto quel contatto che è necessario, indefettibile tra il governo regionale e quello nazionale io non credo all'onda che porterà più voti o meno voti ripeto credo nel programma, nelle competenze, nell'esperienza di chi vuole rappresentare il governo della regione e credo, fatemi dire, nella nostra capacità a livello nazionale di aver già dimostrato con il governo Draghi nell'ultimo periodo di saper fare il nostro mestiere in favore dei cittadini centrodestra sarà un centrodestra a trazione Meloni o sarà un centrodestra diverso? sarà un centrodestra a trazione dei moderati Forza Italia rappresenta in questo il baricentro, rappresenta come riconosciuto dal Partito Popolare Europeo la forza necessaria e la garanzia per il centrodestra, per l'Italia di poter contare su una forza che in Europa è capace di far sentire la sua voce e che soprattutto garantisce tutti gli altri paesi il rispetto ai nostri valori dell'europeismo dell'atlantismo, del liberalismo, tutto ciò che rappresenta la nostra storia e il nostro presente C'è molto da fare, molto da fare per la Sicilia e molto da fare per il paese ma partendo alla Sicilia, Renato Schifani anche in questi studi me l'ha detto in più di una occasione ha detto in buona sostanza varerò un'aggiunta che sarà un'aggiunta politica ma di politica competente e guardi fa il paio con quello che dicevamo prima rispetto ai governi nazionali alle esperienze drammatiche, tragiche offerte dai De Cinque Stelle c'è il governo dei nientologi, coloro che nulla sanno e nulla hanno saputo applicare è esattamente il contrario rispetto a quello che è il portato di Forza Italia è quello che Renato Schifani farà, il quale non si baserà sul bilancino dei partiti sul manuale Cencelli, sul spetta tanto ognuno si baserà sul principio delle competenze chi è bravo, chi è in grado per esperienza e per capacità di fare l'incarico a cui sarà chiamato lo sarà chiamato non per la maglietta di partito che porta ma per quello che rappresenta gli stessi parliamo un pelo in meno di politica e un po' di più di cosa da fare anche se poi alla fine la politica è sempre quella che fa le cose PNRR è uno dei grandi argomenti di questi giorni sono risorse, sono occasioni e opportunità ma sono anche rischi se non si sanno sfruttare guardi PNRR per la Sicilia abbiamo l'orgoglio di aver portato i fondi per il sud dal 30 al 40% lo abbiamo fatto convintamente perché il sud è l'anima di Forza Italia e senza un sud che si mette a trainare nuovamente la locomotiva dell'Italia l'Italia non potrà mai avere il progresso che ha abbiamo degli enormi gap da colmare se pensiamo soltanto al reddito medio che produce un siciliano rispetto a un cittadino della Lombardia la differenza è di oltre 15 mila euro tra l'uno e l'altro se pensiamo ai gap infrastrutturali, se pensiamo alle scuole se pensiamo a tutto ciò che è legato alle 6 missioni del PNRR benissimo, abbiamo fatto straordinariamente bene a fare quei progetti che adesso pretendono dei cronoprogrammi che vanno attuati su questo io ho la garanzia rispetto a chi sta dietro finora ai PNRR e ha fatto che ancora una volta Forza Italia con il centro-destra nella regione ma soprattutto nei ministeri di Roma seguiranno quei programmi che vanno come sapete dalle infrastrutture delle ferrovie alle scuole a tutto ciò che riguarda quello che è in normalità per una regione che troppo spesa ha vissuto la anormalità di un gap infrastrutturale a sé importante ha detto una parola durante questa risposta che è reddito reddito medio non siciliano ma quando si parla di reddito ormai sembra di parlare sempre soltanto di reddito di cittadinanza è anche quello, un'opportunità, una scelta va riformato, va tolto, va completamente cancellato ma guardi che sia un'opportunità il reddito di cittadinanza lo escluderei è stato un, non un male necessario, è stato un intervento dovuto nei confronti di chi è indietro dei poveri, dei bisognosi, di chi non è in condizioni di lavorare o per condizioni familiari non può lavorare o può lavorare poco perché ad esempio incatta un disabile perché ha delle condizioni particolari dei loro familiari poi c'è tutta un'altra parte che è quella che riguarda i giovani guardi che per giovani ormai intendiamo una pratica che va dai 18 ai 40 anni bene, questa pratica non può vivere con l'idea del sussidio, l'idea dell'assistenzialismo sono persone che vogliono e devono lavorare a condizione che i loro contratti siano contratti garantiti che quindi non siano sottopagati a condizione del fatto che siano contratti con un valore minimo per questo noi diciamo che i contratti di apprendistato i contratti che riguardano il praticantato dovranno essere nel minimo anche a tempo determinato pagati almeno 1000 euro netti al mese aggiungiamo il fatto che per le imprese siciliane che assumeranno ci sarà una decontribuzione totale quindi zero contributi per chi assume per almeno i primi due anni da quando entra un giovane guardi sono le prime misure che possono finalmente far ripartire da una regione che sconta come gli altri e le altre il fatto che i lavori che non si trovano i posti di lavoro ci sono 115 mila posti nel 2019 sono diventati 350 mila nel 2021 a fronte di una disoccupazione che in Sicilia raggiunge più del 10% in ambito nazionale e soltanto quella giovanile riguarda oltre il 40% con punti di 60% è inammissibile e il reddito di cittadinanza ahimè oltre al lavoro nero ha incentivato coloro che si sono disamorati del fatto di realizzarsi per andare a lavorare a prescindere dall'opportunità però adesso toglierlo potrebbe essere un pericolo sociale ma guardi si toglie il reddito di cittadinanza soltanto a chi rifiuta di lavorare ripeto il reddito di cittadinanza nella sua accezione di aiuto doveroso nei confronti dei poveri della nuova povertà va assolutamente mantenuto come concetto va rivisto e rivisitato in profondità nei confronti di chi può lavorare e rifiuta dei lavori nonostante siano garantiti nei diritti e anche nei doveri l'altro grande tema di questi giorni e non soltanto è quello dell'energia il costo dell'energia rischia di mettere in ginocchio parecchie imprese e di creare altra disoccupazione guardi sull'energia bisogna intervenire a livello regionale nazionale e europeo è quello che stiamo facendo avendo già proposto non adesso ma a ottobre del 2021 quindi prima ancora che scoppiasse la grande crisi un recovery fund regato soltanto all'energia che già dagli 80 euro a megavattora era passato a oltre 150 adesso siamo arrivati quasi a volte a 280-300 euro bene quindi livello regionale togliere tutte le imposte regionali legate all'energia livello nazionale un fondo garantito da istituzioni finanziarie nazionali e banche che possa andare incontro non a prestiti ma a una sorta di fondo perduto dando alle imprese la possibilità di pagare quindi non licenziare le persone perché sarebbe una tragedia sociale e insieme a questo dare alle famiglie non un unattantum l'abbiamo fatto adesso con il decreto aiuto ancora una volta un unattantum per le famiglie fino a 15.000 euro di reddito no noi diciamo che da ottobre a marzo va garantito mese per mese un contributo fisso per queste famiglie di almeno 100 euro che possa farli guardare diciamo con speranza al domani non con il dramma di dover dire accendo la luce o apri il frigorifero questo è un grande tema però il prezzo di energia bloccato di cui si parla in Europa ci sono tante resistenze a porre veramente questo tetto ci sono resistenze da parte degli stati che sono interessati a volte l'Europa ahimè sconta gli egoismi dei singoli stati in questo caso soprattutto quello dell'Olanda e di altri stati del nord Europa però la forza dell'Europa deve essere quella che con Forza Italia con il Partito Popolare Europeo fare in modo di convincere questi stati a recedere dal loro intendimento e quindi sostanzialmente aderire a una proposta che non è più rinviabile che è quella di un tetto comune europeo e non soltanto della Russia Quelli che vengono chiamati gli stati frugali appunto è sempre stato il grande tema è quello che forse ha allontanato parte dei cittadini dall'Europa fino a far nascere anche delle partiti contro l'Unione Europea Beh in questo mi lasci dire che in realtà le rilevazioni a livello italiano internazionale dicono che l'Italia gli italiani sono innamorati non soltanto dell'idea dell'Europa di quello che l'Europa riesce a fare sicuramente noi siamo i primi a dire che l'Europa deve rivedere i meccanismi di decisione bisogna passare definitivamente dal principio della unanimità nelle decisioni a quello delle maggioranze relative e viceversa l'Europa non camminerà come deve procedere Parliamo di infrastrutture uno dei grandi temi del vostro campagna elettorale è ancora una volta il ponte sullo stretto dico ancora una volta perché è sempre stato un tema negli ultimi 20, 25, 30 anni adesso non ho fatto il conto esatto sin dalla prima campagna di Berlusconi insomma c'è il ponte sullo stretto è vero però non si è mai riuscito a fare interruzioni cambi di governo e così via dicendo ad oggi perché pensate che lo si possa fare quando sul PNRR non può essere utilizzato e molti altri fondi non sono più disponibili questo appartiene esattamente alla visione della politica noi vogliamo una Sicilia che sia competitiva non con la Calabria non con l'Illazio ma con l'Europa e il resto del mondo per rendere competitiva la Sicilia quel ponte è necessario quel ponte consentirà alla Sicilia di ricevere i traffici dal nord Africa dal canale di Suez indirizzandoli verso tutti i grandi hub europei ed evitando che quelle merci come succede adesso vadano a finire tra Hamburgo Rotterdam i porti del nord Europa è un ponte che dà lavoro a 118 mila persone mette in moto investimenti sul territorio per oltre 7 miliardi è un ponte che sulla logistica finalmente collegherà e farà in modo che si spenda molto meno rispetto a quanto si spende adesso è un ponte che è necessario per il turismo è un ponte per il futuro e chi guarda il futuro come fa Forza Italia ha il dovere di immaginare non opere faraoniche ma opere che permettono a questa terra finalmente di affrancarsi da questo sottosviluppo a cui è stata condonata da quella sinistra che per due volte dopo che il presidente Berlusconi aveva ottenuto anche la progettazione del governo non trovo di meglio che fermare l'opera parlare di infrastrutture però significa anche tanto altro la principale critica che viene mostra al ponte sudostretto è perché fare il ponte quando comunque in Sicilia mancano le strade essenziali e che manchino le strade essenziali è un dato di fatto anche se fai un giro in campagna elettorale anche in un altro momento ti accorgi che le autostrade veramente è un disastro ma guardi io che ho mamma che abita a Mazzara del Vallo spesso mi trovo ovviamente a fare le strade ho un fratello che è sempre in provincia di Agrigento a Canigatti di fare le strade provinciali che sono la vera croce di questa regione guardi il primo giorno della giunta Schifani uno dei primi disegni di regge sarà quello legato alla introduzione nuovamente delle province ma per far che? per creare i baracconi? no per dargli finalmente la responsabilità di intervenire sulle strade provinciali che sono un attentato molte volte alla sicurezza dei siciliani così come sono un attentato le autostrade le nostre autostrade non hanno avuto la manutenzione che dovevano avere si avvierà immediatamente non un contenzioso ma una richiesta diciamo molto forte nei confronti di ANAS affinché non in un anno ma nel giro di alcune settimane al massimo entro la fine dell'anno dia finalmente vita a quella manutenzione sulla Palermo Mazzara del Valle sulla Palermo Catania e sulla Catania Messina in modo tale da garantire ancora una volta sicurezza e viabilità però ripeto introduzione delle province per rimettere a posto le strade provinciali e tirata di orecchi diciamolo in questa maniera all'ANAS per fare la manutenzione delle autostrade uno dei grandi temi dell'ultima parte dell'ultima legislatura regionale che però è stato un tema anche nazionale è stato quello dell'introduzione dell'insularità un concetto che fino a qualche tempo fa non era neanche nella mente del legislatore che adesso è parte della Costituzione è parte della Costituzione ancora una volta rivendico che in Parlamento l'abbiamo sostenuto con grande forza i nostri deputati i nostri senatori l'insularità è un concetto che non va verso delle prebende o delle mance che vanno date a quei poverini che vivono in insularità l'insularità diventa un carattere essenziale dal punto di vista dello sviluppo per cui avremo finalmente la possibilità di andare incontro a necessità che attualmente non sono state tenute in secondo o terzo grado rispetto alla Sicilia riguarda l'esempio guarda gli spostamenti gli spostamenti che dovranno essere garantiti non soltanto in maniera spot perché c'è una legge che deve essere applicata ma per il fatto che le regioni devono avere uno sviluppo che si vapa sulla loro peculiarità legata esattamente alla loro insularità uno dei grandi temi legato all'insularità non soltanto all'insularità potrebbe essere un'opportunità questa dell'insularità è quello delle tratte aeree chi vive in Sicilia sa benissimo che tutte le volte che deve tornare si trova aerei a prezzi assolutamente inaccessibili diciamo così come si risolve questo problema? si risolve soltanto aprendo un tavolo con le compagnie aeree avendo la capacità da presidente della regione siciliana nel nome dell'insularità dello statuto autonomo della sicilità della regione a garantire quei collegamenti adare soprattutto ai cittadini non l'opportunità ma il loro diritto ad avere dei pezzi calmerati come già succede ad esempio con la Sardegna per loro ma per i loro familiari ma anche questo rispetto alle isole guarda in Sicilia attualmente un residente di Ustica paga una cifra per la risca aforo minore per andare da Palermo a Ustica ma se io sono il papà di questa persona che è residente a Palermo non posso pagare per andare a trovare mio figlio o per assistere in un momento di necessità una cifra blu che mi fa spendere anche per Favignana centinaia di euro allora è un principio che va allargato sì innanzitutto alle linee aeree con collegamenti il più possibile frequenti faremo restando guardi che lo scorso anno gli aeroporti di Palermo e Catania sono due aeroporti che hanno fatto un movimento di persone superiore a quello di Fiumicino ma sono i nostri concittadini che devono avere l'opportunità di andare a Roma a Milano senza spendere senza dover fare un mutuo per poter andare a prendere un aereo perché attualmente anche per le merci l'essere siciliano o il produrre in Sicilia è un costo assolutamente sì guardi si vive spesso quello che io chiamo il paradosso del pollo il paradosso del pollo risiede nel fatto che è un'azienda che deve portare ad esempio dalla Sicilia a sud orientale un pollo da Ragusa faccia conto a Roma spende per portarlo da Ragusa a Roma una cifra che è 4 volte inferiore a quella che spende per esempio per andare da Ragusa a Palermo quello per il problema infrastrutturale dopodiché con le autostrade del mare o con un collegamento migliore al punto di vista dei cargo sicuramente quella cifra si abbasserà ulteriormente rendendo competitive le nostre aziende il tempo che è a nostra disposizione comincia ad essere tiranno e allora prima di non avere più il tempo la domanda che faccio sempre a tutti alla fine di questa trasmissione che è quello di un appello al voto perché votare Forza Italia perché votare Mulet perché scegliere questa proposta guardi votare Forza Italia significa per la Sicilia e per i siciliani agganciare il treno dello sviluppo il treno del benessere significa garantire che i nostri figli i nostri nipoti abbiano non un sogno ma una realtà da vivere coniugata dal lavoro alle infrastrutture si vota Giorgio Mulet perché fa parte di questo schieramento perché ha una storia personale un vissuto prima durante e dopo il Parlamento che lo porta a dire di poter rappresentare al meglio con il cuore ma soprattutto con la mente i suoi cittadini si vota il centrodestra perché non è un accozzaio un papocchio un cartello elettorale messo su per cercare di prendere voti ma è una comunità di valori e politica che da 25 anni vuole governare il paese e oggi governa 16 regioni visto che ci resta ancora una mangiata di secondi faccio un'ultima domanda le risoste per fare tutto questo dove si prendono? guardi in nostro programma c'è gente che ha detto che cosa? circa 90 miliardi guardi mi spingo a oltre 100 miliardi sono circa 105 miliardi e le posso indicare copertura per copertura dove prendiamo miliardo per miliardo tutti i soldi necessari per fare i soldi non sono scritti sull'acqua guardi vanno dal taglio della spesa pubblica facendo un lavoro minimo di circa 30 miliardi su una spesa che è di oltre 800 miliardi io parlo soltanto della spesa pubblica produttiva si recuperano una pace fiscale che possa recuperare non chissà quanti miliardi ma almeno 30 miliardi dei 1100 miliardi di contenzioso e se vuole andiamo avanti arriviamo al circa 100 miliardi bene il tempo è veramente finito a questo punto grazie a Dio Giomolè per questi suoi 24 minuti con noi e con voi grazie soprattutto a voi che ci avete seguito speriamo di avervi dato elementi per maturare la vostra scelta grazie ancora e appuntamento rinnovato per il prossimo Talk Sicilia arrivederci